ciao ragazzi bentornati sul mio canale oggi rapidissimo video aggiornamento che volevo portare qui per darvi delle informazioni infatti come magari molti sapranno questa settimana sono ricominciate le coppe gfinity coppe gfinity che sono di preparazione alle nuove elite series che si terranno a breve se non erro partiranno intorno al 12 aprile e io ho partecipato alla coppa di martedì quindi diciamo la coppa inaugurale e sono riuscito a vincerla vi magari lascio qualche immagine qui che scorre mentre parlo ma l'informazione principale che volevo darvi è che questi contenuti come ad esempio le gfinity e la weekend league stessa li sto portando in live su twitch sul mio canale di conseguenza vi lascio il link in descrizione e vi do appuntamento anche direttamente ad oggi infatti alle 3 più o meno andrò in live per fare le prime partite della weekend che è l'ultima del mese dunque con l'obiettivo di entrare in top 100 mensili quindi niente come avevo detto questo era un brevissimo video di aggiornamento quindi vi aspetto sul mio canale twitch mi raccomando iscrivetevi lasciate il follow ci vediamo più tardi ragazzi ciao ciao